Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 8 giugno avremo un netto guasto del tempo su tante nostre regioni da nord a sud per effetto di aria più instabile, secca alle alte quote che determinerà la formazione di numerose equazioni e anche intensi temporali avremo anche un significativo calo delle temperature. Il nord e il lato Adriatico saranno senza dubbio le aree più colpite da questa ondata di temporali. In Abruzzo pertanto una giornata decisamente più instabile rispetto alle precedenti avremo soprattutto tra pomeriggio e sera la formazione di numerosi addensamenti specie nell'area interna e sulle colline in montagna quindi possibilità elevata di temporali localmente di forte entità qualche acquazione potrebbe transitare anche a bassa quota e lungo le coste quindi abbiamo alternanza tra schiarite, annubolamenti e acquazioni di breve durata. Le temperature in netto calo, le massime non oltre 26-27 gradi scendono anche le minime che si porteranno tra i 13 e i 17 gradi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.